preparare i due pezzi di stoffa con le 10 per 76 così e che cosa ho fatto con un righello ho tracciato una riga superiore una inferiore a un centimetro dal bordo ok poi piegare questa parte puntate la con degli spilli stirate di infine a metà questi due pezzi serviranno per fare i manici della borsa i due pezzi invece 18x40 vanno segnati in tutti i quattro lati allora ricordiamoci sempre segnare le righe sempre sul rovescio della stoffa sempre a un centimetro dal bordo dopo aver fatto tutti i quattro lati perché questi pezzi andranno a fare le due tasche della borsa piegare il bordino puntare con gli spilli e stirare piegare lungo la linea tratteggiata e infilare gli spilli il tessuto molto spesso fare attenzione a non bucarsi le mani subito e avanti così per tutto il contorno nella nostra tasca dopo aver stirato le due tasche togliamo gli spilli e cuciamo solo un lato solo quello poiché andrà alla parte della superficiale della tasca e lo cuciamo a macchina adesso con i due pezzi più lunghi e spessi 10 centinaje centimetri andiamo a fare come per le tasche questi invece serviranno per le maniglie della borsa l'unica cosa che piegheremo solo il bordino di sotto di sopra non quello al fondo a meno che non avete una macchina da cucire professionale perché poi dopo stiriamo e piegheremo in due cucendo i due bordi laterali e qui verrà un po troppo spesso se noi facciamo un'ulteriore piega da cucire poi nella borsa io non avendo una macchina da cucire professionale questo lo devo evitare ma va bene lo stesso sempre piegando a un centimetro dal bordo andiamo a puntare i nostri spilli che toglieremo solo dopo la stiratura seguite la linea che avete fatto mettete lo spillo e andate avanti fino al fondo le due striscioline una volta stirate sia da una parte che dell'altra poi vanno piegate in due cercando di essere più precisi possibile e proseguire con lo stiraggio fino al fondo allora nel pezzo lungo delle maniglie cucire tutte e due i bordi quello di destra e quello di sinistra per lungo allora nel pezzo diritto del tessuto quindi la parte esterna andiamo a fare un disegno di alcuni rettangolini due rettangolini dove dovremo attaccare le maniglie della nostra borsa e mi raccomando la parte esterna che va fuori e dopo provate le tasche se coprono bene le maniglie quindi le misure sono queste andiamo a vedere nel dettaglio sul tessuto qui ho fatto questi disegnini due e andranno fatti da tutti e due i lati della borsa perché una borsa ha due maniglie e quindi due disegni per parte allora dalla parte alta andare in giù io ho tenuto 10 cm e dalla parte esterna 26 cm poi poi sono andata giù 12 cm e ho fatto 12 per 5 12 5 qui ho fatto un altro segnetto di 4 cm da qui perché questo vi spiego io ho fatto già un'altra borsa allora voi potete regolarvi la lunghezza se volete la maniglia più corta l'attaccate qui scegliete se la volete anche più larga state un po' più di bordo di qua se la volete più stretta voi ve la presentate e vedete dove va meglio no? io adesso volevo la maniglia un po' più lunga per cui l'andrò a attaccare più sopra voi vedete quello che preferite poi mettete degli aghetti se volete la imbastite e la cucite a macchina prima di cucire provate sempre a presentare la vostra tasca se siete stati nella misura perché i bordi della tasca devono andare al di fuori del bordo della maniglia perché sennò cucirete troppo spesso e la macchina da cucire non ce la fa il bordo cucito va sopra e qui o applicherete del velcro pre incollato così non si vedono le cuciture oppure sia da un lato che dell'altro per poterlo attaccare oppure andrete a fare un'asola qua in mezzo prima di attaccare la tasca e applicherete un bottone scegliete voi ci sono molte scelte e poi andremo a cucire la tasca qui sopra dove abbiamo le maniglie ma prima ancora vi farò anche applicare un gadget per rendere un po' più graziosa alla borsa grazie 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 grazie